Nei quartieri dove il sole del mondio non dà i suoi raggi ha già troppi impegni per scaldare la gente d'altra paraggi una bimba canta la canzone antica della mannaggia quel che ancora non sai tu lo imparerai stretta contro le mie raggi e se la sua talle diventerà la competenza presto finirà le capacità con l'esperienza dove sono andati i tempi di una volta per Giunone quando ci voleva per fare il mistero e anche un po' di boccazzino una gamba qua, una gamba là con figli di vino quattro pensionati in mezzo alle notti a tavoli ritroverà con il tempo che fa estate e inverno astra a canare astra a veder le donne il tempo di libero loro cercano la felicità dentro un bicchiere per dimenticare d'essere state presi per il sedere ci sarà l'allegria anche in agonia col vino forte porterà su un riso l'ombra di un sorriso tra le braccia dell'amore vecchio professore cosa vai cercando di quello tutto fa forse è quella che è sola devo dare una lezione quella che di giorno piano di sprenso pubblica quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue ore tu l'entraierai, tu la cercherai più di una nuova ti terrai di sfatto rimandando tutto alle 27 quando incasserai dei lapiderai in mezzo all'aprensione dieci mila lire per sentirti di remicio per le bambuccione se ti oltrerai lungo le calabri dei vecchi muri in quell'aria spessa carica di sali gonfia di odori e ci troverai ladri assassini antico strano quello che è venuto per 3 mila lire sua madre un anno se ci penserai e giudicherai ad un borghese li condannerai a 5 mila anni più le spese ma se penserai e rifletterai fino in fuori se non sono Gilleson per sempre figli vittime di questo mondo grazie a tutti grazie a tutti